Oggi siamo qui per ridiscutere insieme a AES, insieme ai professionisti, alle imprese di come è possibile rigenerare e riqualificare le città in modo da renderle più sostenibili, più attraenti e quindi più vivibili per tutti. Abbiamo quindi oggi affrontato il tema della nuova legge urbanistica, delle opportunità che questa legge consente a un'intera comunità di guardare alla rigenerazione con occhi più attrezzati per vedere le opportunità, i problemi e le opportunità. Dando strumenti, il Comune di Modena ha sfruttato questa opportunità anticipando quindi alcuni obiettivi, quella della riduzione del consumo di suolo, adesso sta approntando il nuovo strumento urbanistico per dare invece maggiori strumenti alla rigenerazione. Abbiamo già attivato con la delibera degli oneri una forte incentivazione per la rigenerazione, abbiamo bisogno di altri strumenti, oggi ad esempio sul tema dell'energia e quindi di tutto il tema dell'elettrico abbiamo dibattuto, siamo confrontati, è stato un dibattito vivace. C'è molto da fare ma le opportunità date anche dalla presenza di importanti superfici come i tetti delle aree produttive sono sicuramente un'occasione da non perdere.